La grande bellezza ha trovato ospitalità a Tezze sul Brenta in Riva al Fiume, dove oltre 100 artisti hanno dato vita a un evento unico nel panorama nazionale, esporre 2000 opere d'arte incastonate nella natura. Una giornata bellissima sia dal punto di vista meteorologico sia dal punto di vista della partecipazione. Un successo di pubblico per un evento che ha saputo mettere in armonia nella cornice di Parco dell'amicizia, arte, socialità, musica e divertimento. Un ringraziamento particolare all'associazione Artez di Tezze sul Brenta, al suo presidente Diego Pasinato e ovviamente a tutti quanti i collaboratori. Festa grande in Riva al Fiume. Credo che Arte in Riva al Fiume, che è un evento giunto alla seconda edizione, sia qualcosa di unico e di straordinario, ma comunque unico assolutamente, nel senso che è veramente, credo, forse impossibile trovare in Italia un evento dove si radunano più di 100 artisti, dove sono esposte 2000 opere a cielo aperto e dove viene integrata l'arte e la bellezza assieme alla natura.